Nuova linea di cartotecnica Queen, nata dalla collaborazione tra Cartos, Toscana Carte Pregiate, e l'artista Sara Lovari, presentata all'interno della ventesima edizione di Lubica, Lucca Biennale Cartasia, il più grande evento al mondo dedicato all'arte, all'architettura e al design in carta. Queen è la nuova collezione toscana firmata da una delle più apprezzate artiste toscane. La serie Eco Sostenibile si sviluppa partendo da quattro opere dell'artista ispirate a quattro donne e l'acquisto dei prodotti della serie Queen sosterrà quattro associazioni toscane che si battono ogni giorno per i diritti delle donne e per la parità di genere. Cartos è sempre stata attenta a quelle che sono le cose importanti del sociale, della vita e per questo insieme a Sara Lovari abbiamo deciso di fare una collezione dedicata alle donne con un impegno in più perché abbiamo unito a questa nostra partecipazione quattro associazioni che si occupano di tutela delle donne alle quali andrà devoluto il 10% del ricavato delle vendite di questi prodotti. La collezione è stata ispirata alle donne, le donne che come me hanno creduto fortemente in un sogno e hanno lottato per ottenerlo, quindi ritrovare il coraggio, quello che è la visione del futuro e questo non lo si fa da soli ma lo si fa anche in gruppo e in compagnia, quindi la coesione, l'unione. Cartos è da 1955 un'icona di stile che guarda il passato con gli occhi proiettati sul futuro e il connubio con l'arte di Sara Lovari sposa perfettamente la filosofia anche dell'ecosostenibilità quindi siamo di fronte a un evento che coniuga tradizione, arte contemporanea, ecosostenibilità e attenzione e sensibilità verso il mondo femminile. Sara Lovari è un'artista giovane con la quale abbiamo iniziato a collaborare ormai da diversi anni e è la testimonianza del fatto che se sul territorio si investe sui giovani e guardiamo avanti e cerchiamo di portare avanti anche dei progetti interessanti, il mercato ci segue.